Ciao a tutti, oggi stiamo preparando l'acqua, l'olio e le penne di chili. Stiamo preparando l'acqua, puliamo e copiiamo l'acqua. Qui stiamo preparando l'acqua. Qui stiamo preparando l'acqua. Qui stiamo preparando l'acqua. Qui stiamo preparando l'acqua. In una piccola panna, mettete l'olio preparato e l'olio d'oliva di oliva. Tornate l'olio d'oliva di acqua e ammigliate l'olio. Ti raccomando di non ammigliare l'olio, solo un po' ammigliato. Spaghetti è perfetto per questa ricetta. Abbiamo una panna di cucina in casa e sarà molto buona. La prossima proponiamo la ricetta con spaghetti. Quando l'olio cuore, aggiornate la pasta e un po' di salto. Stir frequentemente e cuocere per 10-12 minuti, come è una pasta tutta. Grazie per la visione! 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 Quando il farino è troppo cibo, aggiungiamo il chili per raffreddare. Quando il farino è troppo cibo, aggiungiamo il chili per rispondere. Grazie a tutti. Drain the pasta. Add the cooked garlic and the chili pepper. We mix all together. And then we add olive oil. And buon appetito! Pasta, aglio, olio e peperoncino. If you like, please leave a like on our channel and you can also subscribe. Thank you very much and we wait for our next video. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.